la terra la casa ma fra li ho chiusi male a questi ha visto mini sopra d'idea attento no buona caccia madonna fra mi ero messo mi è entrato sta un'altra dove? mi viene in volo guarda questi guarda questi guarda no no mi viene in una cosa guarda si guarda 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 oh iiiii ma attocciare no ma attocciare iiiiiii cazzo di sconfaggiavento bravo una mano mamma chi è? l'ho stata da te quello eh arriva un moto di gatto ma sono forti questi sono forti forti eh questi sono bravi questi sono bravi non so charsi c'è sconfagno uri mio adesso è lì il moto è un po' bittissimo adesso dobbiamo girare ecco bene mi sparano mi sparano loro col cecco? eh si eh si ho trovato il loro cecchino mira fra mi sta mirando eh mi so deve uscire però mi vanno chiusi vanno chiusi aspetta io sto facendo mi so prendere i furelli oh ma fatto fra stanno arrivando hai visto? scusate vai la facciamo lì fra stanno girando a destra devo fare questi eh stanno girando a destra 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 a terra a terra a terra Grazie a tutti.